quello che vedete viene chiamato il muraglione siamo a docce di fiume albo nell'appennino modenese un manufatto che è stato concepito ai primi del novecento per contenere le acque non certo le invasioni barbariche bene questo manufatto è stato ripristinato perché ha avuto un cedimento e soprattutto comunque una grande valenza storica e ne parleremo anche di questo perché è stato fatto i primi del novecento tra le opere di regimazione idraulica che il consorso di burana ha messo in campo quella del muraglione qua a fiume albo docce di fiume albo è un'opera che è stata fatta ai primi del novecento ma che aveva bisogno di essere un attimino ripristinata innanzitutto che cos'era e che cosa è l'intervento che viene fatto dal vostro ente ma è un intervento sicuramente all'insegna della difesa idrogeologica questo era un muraglione fatto prima in muro a secco in grossi elementi di arenaria tant'è che ci vuole praticamente un autogru per muovere il singolo elemento che costituisce che costituisce il pezzo di muro e era stato fatto perché si erano verificati dei fenomeni di dilavamento dovute a piogge molto intense siccome proprio al limite della del bosco zone non boscate che chiaramente hanno convogliato a valle grossi quantitativi d'acqua che hanno poi eroso il terreno su cui cadevano e hanno interessato molte frazioni qui di fiume albo creando dei grossi danni costruendo questo questa grossa questo grosso sbarramento in sostanza le acque vengono frenate vengono condotte a valle in modo sicuramente più sicuro il consorzio di burana in sostanza interviene per rappezzare tra virgolette queste grosse voragini che nel tempo sono create chiaramente l'accesso avete visto è abbastanza impervio bisogna andarci con mezzi particolari una volta addirittura io quando ero appena entrato in consorzio ci si andava con i muli si caricavano i muli con tutte le attrezzature che servivano e gli operai addirittura si accampavano con la stagione bella lì in zona per fare questo intervento oggi diciamo abbiamo fatto degli ulteriori sviluppi con i mezzi di accesso e lavoriamo in condizioni sicuramente più moderne e più veloci sempre all'insegna della sicurezza del territorio anche una valenza monumentale perché comunque un'opera storica diciamo opera storica opera sicuramente preservata in termini di sovrintendenza bene ambientale architettonici regionali è un'opera fatta dai nostri nonni con quelle maestranze e quelle attrezzature che c'erano un tempo però ancora è resistente ancora funziona noi come consorzio burana non facciamo altro che garantire in per il futuro l'ulteriore mantenimento dell'opera stessa e della sua funzione conferenza sulla montagna un evento che è stato realizzato a bologna alcuni giorni fa ha messo in luce quelli che sono gli aspetti positivi dal punto di vista delle risorse e disposizione per la montagna ma anche le criticità del territorio diversi milioni che sono appunto a pannaggio insomma di un appennino che è fragile che cosa sia stato è stato detto ma soprattutto cosa il consorzio di burana farà nei prossimi mesi nel prossimo anno con risorse che vanno beneficio di un territorio prevalentemente montano crediamo che sia stata sia una scelta importante per un territorio così fragile come il nostro territorio dell'appennino in emilia romagna per quanto riguarda il ruolo dei consorsi rispetto a queste risorse un ruolo importante un ruolo che gli vengono affidate la progettazione e la realizzazione ma altrettanto importante la scelta che fece la regione emilia romagna quando con la regge del 2010 di riordino dei consorsi aumentò quelli che sono i compiti attuali dei consorsi di bonifica in un territorio montano e collinare che prima magari non aveva questo ci permette oltre quelle risorse che arrivano dal ministerio dalla regione ci permette di aumentare aumentare la contribuenza utilizzata in montagna per lavori contro il dissesto e per il mantenimento appunto di questi territori sempre più sicuri per arrivare a degli obiettivi di messa in sicurezza del territorio in particolare in termini di prevenzione e non di emergenza come purtroppo si è ragionato negli ultimi 20 o 30 anni nel nostro paese. La bonifica di burana è un vasto territorio che cosa è stato messo in campo per questo appunto areale che riguarda i consorziati insomma del burana. Sì il consorzio di bonifica di burana ha oltre 80 mila ettari di territorio montano tra la provincia di Modena, la provincia di Bologna, la provincia di Pistoia. Questo ci impone una riflessione rispetto a quello che è la conoscenza del territorio ma soprattutto la collaborazione con le istituzioni in particolare con i sindaci e le comunità montane per fare una programmazione che abbia una visione di futuro e che non abbia solo una visione di emergenza. Questo è quello che da ormai dieci anni il consorzio di bonifica sta mettendo in campo. Abbiamo aumentato in modo importante le risorse reinvestite sul territorio della contribuenza montana. Nel 2019 arriveremo ad oltre 850 mila euro che servono ad andare a ripristinare quelle che sono le criticità concordate in una programmazione appunto con l'Unione dei Comuni ma soprattutto siamo riusciti grazie anche a un bando regionale del piano di sviluppo rurale, la misura 5.1, a mettere in campo una straordinaria progettazione che vede oltre 60 progetti a richiesta di finanziamento per un totale di più di 5 milioni di euro che andranno a tutelare quelle aziende agricole, quelle strade vicinali, quei territori, quei terreni che in modo preventivo rispetto a degli eventi franosi che potrebbero arrivare. Questo crediamo che qualora riuscissimo ad ottenere un buon finanziamento sia un messaggio importante anche questo rispetto alla tenuta del territorio, rispetto alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista ambientale ma anche economico, ma soprattutto credo che la cosa più importante che con questi rifinanziamenti stiamo dando a questo territorio è una grande opportunità di occupazione che in un appennino dove purtroppo lo spopolamento, dove purtroppo la mancanza di opportunità negli ultimi anni ha creato notevoli problemi rispetto alla presenza umana in questi territori credo che sia un'opportunità per invertire la rotta e per aumentare quella che è appunto la resilienza a quei territori, a quei fenomeni naturali di un territorio che altrimenti rischerebbe di essere abbandonato. Il ruolo progettuale del Consorzio di Bonifica è molto importante perché comunque ha in sé insomma le capacità e le conoscenze tecniche per poter poi dopo dare in affidamento ai lavori anche a ditte che sono direttamente collegate a voi insomma con appalti. Sì, è proprio questa la straordinaria capacità che ha dimostrato negli ultimi anni appunto i Consorzi di Bonifica a livello regionale, a livello nazionale e anche come Consorzi di Bonifica di Burana. La capacità di mettere a terra e di spendere in tempi brevi delle risorse che il Paese, la Regione riesce a dare. Questa era la sfida che credo che tutti i cittadini volessero da più tempo, nonostante le burocrazie che ancora ad oggi ti impediscono di accelerare ancora di più quelli che sono gli interventi, ma oggi la straordinaria capacità e la professionalità che abbiamo all'interno dei Consorzi di Bonifica ci permette di riuscire a spendere queste risorse molto spesso all'interno dell'annualità stessa, con una straordinaria capacità sia di affidamento dei lavori ma anche di seguire e di chiudere i lavori stessi e questo ci permette di continuare una programmazione che qualora ci fossero dei finanziamenti pronti siamo come enti Consorzi di Bonifica in grado di recepirli e di dare soddisfazione sia alla politica che fa le scelte di mettere delle risorse, ma soprattutto ai cittadini che hanno bisogno di vedere la concretezza delle opere del fare. Corrado Ferroni, sindaco di Pieve Pelogo, ma è coordinatore all'interno del Consorzi di Burana e quindi rappresenta tutti i sindaci della montagna. Quali sono le sinergie che vengono attivate tra comuni, montagne e il Consorzi di Burana per arrivare ad una tutela del territorio? In questi anni sono stati fatti dei lavori molto importanti, è stata fatta un'azione di coordinamento con tutti i sindaci della montagna e dove abbiamo individuato le priorità andando ad investire con delle risorse sia proprio del Consorzio sia attingendo i vari contributi e le opportunità a livello regionale. Quindi è chiaro che non si ragiona a risorse infinite, però stiamo lavorando su dei programmi che vadano appunto a dare una mano alla montagna. In particolare in questi ultimi anni abbiamo fatto tanto lavoro perché purtroppo si registra questo dato di questo spopolamento che c'è nei nostri territori e quindi la mancanza di una manutenzione puntuale e precisa anche dei residenti, degli agricoltori. Però è una scommessa che dobbiamo vincere e che dobbiamo essere pronti per dare un territorio che sia fruibile anche per il turismo perché il territorio è una fonte di ricchezza che dobbiamo attivare e soprattutto dobbiamo cercare di dare prospettiva negli anni futuri. È una scommessa molto difficile, però ci proviamo. C'è conflittualità tra comuni quando si devono determinare le priorità degli interventi? È chiaro che ogni sindaco vede il proprio territorio, però diciamo che c'è questa consapevolezza in tutti noi che dobbiamo metterci assieme, fare sistema ed avere una voce unica per la montagna perché diciamo che il territorio ha le solite caratteristiche, non varia di molto da comune a comune. Si tratta appunto di avere assieme un confronto e anche un dialogo e una condivisione delle priorità, cose che negli ultimi anni è stato fatto. E a conferma di questo sono le programmazioni che ci sono in atto degli interventi di quest'anno del 2019 e nel 2020 che sono interventi condivisi con tutti i soggetti del territorio. Quindi direi che il consorzio al di là di quello che può essere visto negli ultimi decenni così abbiamo fatto passi da gigante nelle risorse disponibili per la montagna. Quindi mentre c'era una percezione un po' critica, negativa, in questi ultimi anni abbiamo fatto un salto di qualità dovuto alla montagna e alle popolazioni della montagna. Grazie per la visione!